L'accordo di fornitura sarà garantito solo se la nuova società sarà competitiva ed efficiente, ne consegue, che potrebbe esserci il rischio di un aumento dei turni per conseguire questo risultato. L'allarme arriva dall'RSA della Fiume Cigiele di Sulmone, dalla Fiume Cigiele della provincia dell'Aquila, all'indomani dell'incontro presso lo stabilimento di Corbetta, sul futuro dello stabilimento, alla luce del passaggio da FCA a Calzoni Cansei, che si concretizzerà per la prima metà del 2019. Fino a quel momento tutti i lavoratori restano a carico di FCA e si continuerà ad applicare il contratto collettivo vigente. L'azienda rimarca l'importanza del mantenimento di livelli occupazionali legati all'accordo di fornitura pluriennale con FCA. Tuttavia, rispetto a quest'ultimo impegno, alla nostra precisa domanda, l'azienda ha specificato che la durata pluriennale sarà fino a tutto il 2022, ma parità di condizioni di mercato con i concorrenti, fanno sapere dalla Fiume, spiegando che l'accordo di fornitura sarà garantito solo se la nuova società sarà competitiva ed efficiente. La Fiume ha quindi chiesto di intraprendere una nuova strada di relazioni sindacali, che possa garantire una maggiore informazione e partecipazione dei lavoratori e la via di un confronto su un piano industriale. In attesa di un reale piano industriale e di ulteriori dettagli riguardanti la vicenda, continuiamo a mantenere la nostra cautela in merito ai presunti vantaggi di tale operazione ed eventuali ricadute che potrebbero esserci nel nostro stabilimento, concludono da sindacato. Una di queste, proprio alla luce della competitività da conseguire, potrebbe essere l'aumento dei turni non nell'immediato, ovviamente. Un rischio che impone alla Fiume di mantenere alta l'attenzione, come fatto finora.